Hai preso le mie cose, il portafoglio, i vestiti, non c'è più niente! No, si sono presi anche le mie. Ok, letteralmente, dice solo di uscire dal negozio. Giusto? Coraggio, vieni! Andiamo! Svegliati! E parti! Ti va a mellarci? Sì, perché no? Ehi, ci sei? Scusa, amico, andiamo di fretta! Fermi, dove andate? Ciao, vieni! Dai, che ci siamo quasi! Ragazzi! Scusi, vieni! Scusi! Grazie! Grazie a tutti.